Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo piccolo tutorial ti spiego come cambiare microfono su Windows 11 ovviamente basta che vai in basso a destra sull'icona dell'audio, questo metodo funziona anche su Windows 10 quindi vai su questa icona dell'audio, tasto destro sopra, impostazioni audio qui c'è l'output per gli altoparlanti, per le casse, per le cuffie e qua sotto c'è l'input per i microfoni quindi in questo caso tu vai a selezionare il tuo microfono come puoi vedere io sto parlando con questo microfono, ok? come puoi vedere c'è la barra che si alza e si abbassa e puoi selezionare il tuo microfono quindi grazie a tutti per questa visione, se ti è stata utilissima questa guida iscriviti, lasciate like e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo tutorial, ciao!